John Journal Signatures Pocket Tag Efimera Se anche tu sei lì che ti stai chiedendo ma che caspita vogliono dire questi termini Bene, questo video fa per te Ciao a tutti, allora benvenuti in questo nuovo video per chi mi conosce già e benvenuti a quelli che invece si sono appena iscritti al canale Io sono Francesca, creatrice di John Journal Joy Creo dei John Journal I John Journal sono dei libri fatti a mano con del materiale principalmente di recupero Va bene, tipo questo qui che ho qua davanti Allora faccio questo video perché in effetti mi avete chiesto in tanti un po' di traduzioni per tutto quello che riguarda il mondo del John Journal Allora faccio una premessa Purtroppo alcune cose non hanno una traduzione Quindi chi si occupa di John Journal tendenzialmente tende a utilizzare i termini inglesi perché non esiste la traduzione oppure la traduzione non rende l'idea diciamo di questa cosa particolare Vi faccio un esempio Quando tu vai al ristorante giapponese e ordini il sushi Non ordini il riso col pesce morto, giusto? Perché come lo traduci il sushi, capito? Ci sono delle cose che purtroppo non si riesce a tradurre Piuttosto che ad esempio per me che faccio dei video sul John Journal Se io dovessi scrivere in italiano tutorial sul giornale spazzatura diventa poi difficile in realtà che questo video venga trovato da qualcuno perché è più facile che uno faccia la ricerca John Journal in italiano Ok? Piuttosto che come fare un giornale spazzatura Quindi fatta questa piccola premessa nel senso che a me piace tantissimo l'italiano io vorrei parlare solo italiano ma purtroppo ci sono dei termini che non possono essere tradotti perché non esiste la traduzione e quindi diventa un po' tutto difficile Quindi oggi facciamo un po' di lezioni d'inglese nel mio piccolo cercherò di aiutarvi Allora, la primissima cosa qui come vedete è il mio caffè latte non è caffè Vi voglio dire che se siete nel gruppo Facebook avrete già visto questi due spiegoni che in questo caso sono dei ripassoni cioè avevo già fatto un video dove un po' spiegavo la terminologia del John Journal ma effettivamente avevo fatto vedere questo foglio poi non è che l'avevo spiegato più di tanto per cui oggi diciamo vediamo di fare un po' un riassunto Ok? Comunque questi sono gli spiegoni che trovate nel gruppo John Journal Joy and Friends Trovate il link in descrizione Questi fogli con tutte le traduzioni bla 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 più altre spiegazioni le trovate nell'album Lo Spiegone Va bene? Poi oggi vediamo un po' di termini se c'è qualcuno che salto o siete curiosi di capire esattamente che cosa significa scrivetelo poi nei commenti anzi scrivetelo subito così giusto Siete sicuri che la domanda arriva Allora, primissima cosa cos'è un John Journal? Allora, un John Journal è un libro fatto a mano ok? È una specie di agenda fatta a mano giusto per intenderci o notebook fatto a mano dove praticamente si usa tendenzialmente come copertina ad esempio, non so la scatola dei cereali piuttosto che la confezione di Amazon tutte queste cose che si possono riciclare ok? piuttosto che i fondi dei notebook quei cartoncini un po' così vengono usati come copertina tendenzialmente il resto sono magari dei fogli di recupero quindi non so vecchi preventivi io qua ad esempio avevo usato quelli della macchina avevo fatto un po' di preventivi in giro però non so i preventivi delle assicurazioni i preventivi delle auto tutta quella roba lì fogli volanti fatture bollette roba vecchia che non vi serve più di carta qualsiasi cosa che sia di carta può finire in un journal va bene? quindi tendenzialmente si chiama così perché già anche in inglese significa spazzatura journal vuol dire giornale sarebbe libro libro, notebook una cosa di questo tipo per intenderci quindi in italiano la traduzione sarebbe giornale spazzatura effettivamente non è così figo come dire john journal ma la motivazione per cui ad esempio io non uso giornale spazzatura è perché non rende non rende l'idea e sarebbe difficile che qualcuno trovasse i miei video ripeto è più facile che qualcuno cerchi su internet john journal in italiano poi se per caso invece voi avete cercato giornale spazzatura fatemelo sapere nei commenti che cambio i tag ok? però finora penso che sia stato così come l'ho stato per me penso che sia così anche per voi va bene? seconda cosa non rende l'idea perché io mi immagino una persona che magari finisce sul mio canale e vede come fare un giornale spazzatura secondo me uno cambia subito canale ma che è? ma che cosa? cioè perché ti viene in mente effettivamente la spazzatura va bene? quindi cioè noi associamo subito la spazzatura al cestino con dentro la buccia marcia dell'arancia che è appena che è appena utilizzato capito? quindi secondo me non è il massimo tenere quella traduzione lì ok? vediamo se sono inquadrata sì quindi la premessa è questa qua la seconda cosa cosa sono le signatures allora le signatures sono degli inserti ok che compongono il junk journal allora vi faccio vedere vediamo se si vedono qua abbastanza bene se si vedono allora in questo caso si vedono molto bene perché diciamo che questo è proprio il classico junk journal cioè fatto un po' alla carlona un po' casaccio dove vedete che aspetta si vede sì ok vedete che qui ci sono quattro inserti vedete ci sono praticamente dei libricini uno due tre quattro ok in inglese sono chiamati signatures che in realtà penso che la traduzione si affirma non so perché ma però vi assicuro che dopo vari svariati video in inglese che ho visto le signatures sono gli inserti che compongono il junk journal ok quando si vanno a fare i libri fatti a mano in generale nella vita vi faccio vedere come in questo caso questo ad esempio è un libro che sto facendo questo più che più che un junk journal sarà un libro fatto a mano nel senso che le cose che sto utilizzando per fare questo libro sono praticamente tutte nuove ok quindi nella terminologia diciamo così più ampia viene classificato ugualmente come junk journal perché è un po' vintage cioè sembra che la carta sia vecchia in realtà non è vecchia va bene l'ho invecchiata io con il tè in questo caso va bene anche la copertina in questo caso è una chipboard quindi non è non è qualcosa di riciclato in questo caso quindi in realtà tecnicamente questo è un libro fatto a mano non è un junk journal lo uso però per farvi vedere la differenza di signatures cioè di inserti qua ad esempio ho tantissimi inserti vedete assomiglia molto a un libro vero diciamo così ok vedete com'è invece diciamo che il classico junk journal ma poi qua dipende dai gusti ha meno inserti quindi meno signatures ok un po' più ciccione va bene dipende da quanti fogli andate ad inserire per ogni inserto va bene qua va un po' a gusto però se volete l'effetto libro classico dovete fare meno pagine per meno inserti va bene scusate per più inserti giusto adesso mi confondo anch'io invece se volete l'effetto cicciotto un po' più così allora potete fare meno inserti con più pagine però ripeto dipende dai vostri gusti ok quindi inserti o signatus sono queste cose qua va bene insieme sono dei fogli dei fogli piegati in due tutto qua va bene poi seconda cosa la pocket la pocket che cos'è è la taschina la taschina la taschina vediamo un po' se riesco a farvela vedere ma sicuramente da qualche parte c'è una taschina qua c'è una taschina beh questa ad esempio questa qui è una taschina vediamo se sono inquadrata sì vedete questa è la pocket ok è fondamentalmente un pezzo di carta attaccato alla pagina alla quale io posso poi andare ad inserire dentro un qualcosa va bene quindi la differenza tra pocket e tac spot qual è la pocket è attaccata per tre lati va bene la tac spot la tac spot invece è attaccata soltanto per due cioè vediamo un po' se riesco a farvela vedere cioè è una cosa di questo tipo ovviamente non la trovo ma non ho fatto neanche una tac spot che tristezza la tac spot no vediamo un po' beh se non c'è la vado a creare così ve la faccio vedere faccio prima vediamo un po' beh ad esempio se uso questa questo pezzo di carta qua ipotizziamo che lo vado ad attaccare qui e qui ok quindi soltanto su due lati a l vediamo se sono inquadrata sì qui mi rimane aperto ok quindi la differenza è sottile alla fine cioè voglio dire invece se fosse una pocket sarebbe incollato anche questo pezzo qua va bene quindi questa è la differenza non saprei chiamarla in italiano la tac spot come caspita si chiama sarebbe taschina appiccicata solo per due lati va bene quindi spero che sia abbastanza chiaro allora poi la tag la tag che cos'è la tag è fondamentalmente un'etichetta che sarebbe quella praticamente che trovate ad esempio sugli abiti quando li comprate nuovi c'è un'etichetta piuttosto che è l'etichetta quella dove scrivi il prezzo ok nei journal è usata come abbellimento va bene come pezzo di carta sulla quale magari puoi mettere una foto puoi scrivere un qualcosa la puoi utilizzare in tanti modi tipo ad esempio questa potrebbe essere una specie di tag la tag di solito ha i lati smussati aspetta vediamo se ne ho una qui sì eccola qua tipo ad esempio questa è una tag ma anche al buco qua in mezzo però fondamentalmente è una tag vedete che ha gli angoli in alto smussati va bene cosa serve? niente serve a far da segnalibro serve a appiccicare delle foto a scriverci sopra qualcosa tendenzialmente nei journal potete non so raccogliere delle foto potete scrivere i vostri pensieri lo potete usare come agenda lo potete usare come notebook nel mio caso ad esempio non c'è un tema specifico ci sono quelli che lo utilizzano con dei temi specifici a tal proposito vi lascio il link del video che avevo fatto qualche mese fa su come si può utilizzare un john journal perché i modi effettivamente sono infiniti tenete presente che non ci sono delle regole va bene quindi fate quello che vi sentite e chi se ne frega delle etichette questo è un po' questo è un po' il senso che volevo darvi e dirvi allora visto che ce l'ho in mano queste qui che sarebbero fondamentalmente le graffette se mi seguite da un po' sapete che io ogni tanto mi dimentico proprio anche i nomi in italiano quindi voglio dire però con le immagini spero che si possa capire queste sono le graffette giusto in inglese si chiamano paper clip clips se parliamo al plurale anche qua ad esempio nell'ultimo video che ho fatto le ho chiamate un po' graffette un po' paper clips perché mi immagino che magari un italiano cerchi la graffetta decorata per intenderci ma ma magari se c'è qualcuno ma ma magari ma se c'è qualcuno che mi segue in america e qualcuno c'è o nel resto del mondo magari non cerca graffetta cerca paper clip capito quindi siccome che la maggior parte dei video sono in in inglese è più facile che nella comunità del john journal cerchino paper clip non so se mi spiego comunque vabbè la graffetta per intenderci quindi cosa c'è attaccato qui attaccato qui ci sono delle perline fondamentalmente che però nel momento in cui faccio diventare tipo charm ciondolo ok vengono più che altro chiamati beats beads ok comunque vabbè è una graffetta abbellita se proprio vogliamo essere terra terra va bene solo che anche qui se io scrivo nel video graffetta con abbellimento graffetta con perline non lo so magari viene un po' difficile cercare il video però questo è quanto ok poi a proposito di charms già che ci sono in qualche video precedente vi ho fatto vedere come fare queste vedete mi viene bottle cup perché ho visto talmente tanti video in inglese dove vengono chiamati cioè bottle cup charms o shaker che mi viene da chiamarli così vedete sono dei tappi di bottiglia alterati fondamentalmente questo è shaker che anche qui non so come si dice in italiano ci sono dentro delle paillettes non mi viene comunque capito dall'immagine vedete che è una è un tappo di bottiglia shaker va bene questo qua è semplicemente abbellito con un bottone dentro va bene però sarebbero i tappi di bottiglia charms perché poi si possono attaccare da qualche parte il charm è l'abbellimento che si attacca cioè quando tu ad esempio hai un braccialettino la cosa che spunta e sballonzola di qua di là è il charms charm in singolare e charms al plurale ok spero che mi stiate capendo ecco visto che ce l'ho davanti vi spiego anche che cosa sono queste allora queste sono le glassing bags che anche qui in italiano sorso di caffè non ho la più pallida idea di come si chiamino praticamente sono le le bustine che ti danno quando ad esempio non so ti danno le caramelle ti danno la torta sono quelle bustine fatte con una specie di carta da forno che non è carta da forno questa ad esempio è anche invecchiata col tè sentite che rumore che fa sono divertentissime da usare nei john journal perché fanno sicuramente scena fanno figo ok va bene e sono quelle alimentari diciamo cioè se tu vai dal panettiere e prendi una fetta di torta tendenzialmente userà una glassing bag per darti questa fetta di torta da portarti via ok ne esistono di varie misure c'è ad esempio questa qui piccolina anche questa l'ho invecchiata con il tè questa se non sbaglio l'avevo comprata da eurofides mi sembra ma si trovano anche tipo credo su amazon su etsy però costicchiano io ho fatto qualche video anche sulle glassing bags magari ve lo linko qua sopra su come farvele da soli da soli con la carta da forno perché più o meno l'effetto non è esattamente lo stesso però è molto simile piuttosto che ho fatto anche un altro video con il metodo di Nick the booksmith che vi lascio anche quello come link dove si usa un altro metodo per farle e viene molto molto simile quindi è una cosa carina se vi interessa e basta e se esiste la traduzione no la traduzione dovrebbe essere aspetta carta pergamino pergamina o pergamino dovrebbe essere bustine di carta pergamino però anche qui se io faccio un video con su scritto come fare la busta con la carta pergamino non so quanti cercano una cosa di quel tipo lì è più facile che uno abbia visto il video in inglese quindi glassing bags tutorial e io faccio prima scrivere glassing bag tutorial in italiano capito per essere trovato come video non so se mi spiego quindi poi vediamo visto che ce l'ho davanti ma questa la traduzione c'è nel senso che è la busta però se vedete qualche video in inglese queste le chiamano envelope va bene envelope niente di che poi vediamo un po' altre cose altre cose vediamo un po' ah le tabs le tabs che cosa sono le tabs sono queste sono praticamente delle etichette che si mettono all'inizio di un gruppo di pagine per segnalarne il contenuto ok tipo ad esempio quando le trovate nelle agende quelle per dire le agende telefoniche per intenderci quindi quel abcd è fatto fondamentalmente con delle delle tabs va bene le tabs queste etichette che spuntano fuori vedete come sono fatte vedete ok queste etichette qui possono essere in cartoncino in carta anche in stoffa stoffa sono bellissime va bene queste cose qui ok e basta dopodiché vediamo la flip allora che cos'è una flip allora flip sarebbe un suono onomatopeutico vuol dire girare quando tu giri qualcosa tipo se io giro le pagine fanno flip tendenzialmente cioè si sente un flip sentite cioè secondo gli americani questo suono è flip a me sembra però vabbè è flip quindi quando ad esempio vedete john journal flip through che cosa vuol dire vuol dire che io ti farò vedere un john journal pagina per pagina in realtà sarebbe page to page pages to pages in inglese ma lo chiamano così flip through quindi anche io nei miei video dove ti faccio vedere tutte le pagine del john journal lo chiamo flip through perché è una questione proprio di essere trovato come video ok e basta quindi se uno si interessa al john journal può essere che il suo passaggio sia video americano poi lo cercano italiano per questo che tengo gli stessi nomi tendenzialmente ma soprattutto perché l'italiano verrebbe una cosa come giornale spazzatura in vendita pagina per pagina cioè viene una cosa un po' strana non so se mi spiego quindi quando vedete flip through vorrebbe dire flip attraverso quindi sarebbe flip attraverso il giornale ok il libro va bene quindi sarebbe lo sfogliamento delle pagine sarebbe te lo faccio vedere pagina per pagina quindi quando vedete john journal flip through sappiate che significa ti faccio vedere un john journal pagina per pagina spero di essere chiara poi fatemi sapere nei commenti se sono stata abbastanza chiara dopodiché ecco la flip nel john journal che cos'è è una pagina che fa flip quindi che si sfoglia va bene quindi ad esempio vediamo se ne trovo una ecco ad esempio questa questa è una cartolina che io ho attaccato e mi funge mi fa da flip cosa vuol dire che è attaccata con del washi tape vedete e fa flip cioè io la posso girare in questo modo qua ok fa flip quando la tiro su flip lo sentite il flip io sento però fa lo stesso allora è attaccato con del washi tape che cos'è il washi tape il washi tape è un nastro adesivo di carta è roba giapponese washi infatti fa molto giappone se non vorrei dire stupidate ma credo che sia giapponese vabbè è comunque un nastro adesivo di carta la cosa carina del washi tape rispetto allo scotch per intenderci al nastro adesivo è che si può attaccare e staccare più volte perché non è uno scotch un nastro adesivo fortissimo va bene quindi io posso tranquillamente attaccarlo qui puoi spostarlo quindi è questa diciamo che è la cosa più carina del washi tape va bene la funzione della flip qual è è che mi fa da decorazione sulla pagina però posso girare la pagina in questo caso una cartolina che è già scritta quindi non posso scrivere niente ma se fosse una cartolina vuota io potrei mettere una foto potrei scriverci sopra e potrei scrivere qua sotto magari una cosa semi segreta va bene oppure mettere una foto un po' nascosta va bene quindi la flip è carina per quel motivo lì la puoi mettere così la puoi mettere anche di cosa mi spiego e può essere anche di stoffa la flip di stoffa che sarebbe la fabric flip cioè appunto la flip di stoffa ne ho fatta una da qualche parte vediamo se la recupero forse nella primissima pagina che avevo fatto di questo young journal magari vi metto il link comunque di tutte queste di come ho decorato queste pagine se la cosa vi interessa ci sono proprio i video dove vi mostro il mio processo creativo nello scrivere un young journal porca miseria non la trovo più ma dov'è aspetta forse qua l'ho l'ho pinzata eccola qui ok allora questa ad esempio è una fabric flip vedete che è tessuto in questo caso non l'ho ancora incollato però vedete che è tessuto vediamo se si vede che viene in su e in giù ok quindi questa è la fabric flip io di solito la faccio un po' più grossa ed è una cosa carina magari può essere un pezzo di vestito che non usate più un pezzo di vestito significativo ad esempio non so se avete un bambino la sua prima tuttina potete tagliarla e metterla come flip nel young journal magari nel suo album fotografico tutte queste cose qua va bene poi un'altra cosa la belly band allora la belly band sarebbe la traduzione sarebbe pancera pancera allora cioè che cos'è allora vediamo se ne trovo una perché non sono sicura di averne fatte qua vabbè non c'è fa lo stesso la creiamo allora si prende un pezzo di carta o di stoffa si appiccica qui nel mezzo ad esempio ma poi cioè puoi spostarla su giù insomma come ti pare ovviamente non ci sono regole ricordatevi sempre che nel young journal non ci sono regole fate come vi pare va bene ognuno è libero di fare come gli interessa ok non c'è problema magari qua potrebbe essere di solito sono alte come tutta la pagina in questo caso non ce l'ho aspetta vediamo se ho un altro pezzo di carta un po' più lungo sì tipo questo ecco è una roba del genere una striscia di carta o di stoffa che si vada a appiccicare qui e qui si lascia praticamente libero nel mezzo e nel mezzo io posso andare a mettere ad esempio una tag una busta un qualcosa così viene fermato praticamente dal pezzo di carta o di stoffa si chiama belly band che vorrebbe dire pancera in effetti sembra tra virgolette la pancera della pagina non so è una cintura mi spiego quindi questo è quanto poi vediamo un'altra cosa il tassel allora il tassel questo John Jordan non ce l'ha ve ne prendo uno che ce l'ha allora anche in questo caso non ho idea di come sia la traduzione motivo per cui io continuo a chiamarlo tassel perché non saprei come chiamarlo sarebbe praticamente perché non è una nappina non saprei praticamente il tassel sono tutti quei chars quei pezzi di stoffa quelle nappine che voi andate ad attaccare alla spina del John Jordan comunque la copertina non tanto la spina vedete in questo caso c'è una bottiglietta vuota ci sono dei bottoni ci sono dei chars c'è un rocchetto di filo c'è un altro rocchetto se questo è rocchetto quell'altro come si chiama ha la spoletta scusate questa è la spoletta questo è un rocchetto di filo ok quindi questo è quanto dopo altre cose ecco a proposito la spine scritto spine spine sarebbe la spina del John Journal cioè questa parte qui la costola non saprei come chiamarla questa parte qui se vedete spine tutorial è il tutorial su come fare la spina va bene cover è la copertina ok a volte io nei miei video anche lì metto non so soft cover cosa vuol dire è la la copertina morbida quindi magari quella fatta in tessuto morbido con le cose lì poi altre cose vediamo che mi vengono in mente poi ripeto ci saranno altre 3.000 cose però però in questo momento non me ne vengono in mente altre vediamo se a guardare di qui no vediamo mi sembra di avervi detto le cose principali quindi niente fatemi sapere nei commenti se ci sono altre cose che ah ecco questo qui che non mi ricordo più anche questo è una flip penso sì credo di sì eccola qua non so se si vede sono un po' bassa allora questo qui questo triangolino qua vedete è una specie di tuck spot perché comunque non è una pocket perché non è non è incollato su tre lati ma soltanto su due e la cosa carina che è un quadrato in realtà perché io posso anche aprirlo in questo modo va bene quindi fa flip anche questa è una flip cioè tutto quello che si va ad aprire così ricordatevi è una flip va bene quindi la funzione di questa cosa che si va ad aprire così qual è che qua sotto posso mettere una piccola foto posso scrivere qualcosa quindi ottengo maggiore spazio per poter scrivere ok questo è un po' il discorso e basta mi sembra di aver detto le cose principali ah sì efimera scusate che l'ho citato poi nell'introduzione e poi non vi ho detto che cosa sono gli efimera allora gli efimera sono dei pezzi di carta che possono ad esempio essere delle vecchie ricevute delle foto dei biglietti delle tag sono dei pezzi di carta appunto che possono servire ad abbellire il vostro young journal ad esempio ad esempio un efimera cosa può essere può essere questo ad esempio vedete questo è un piccolo pezzo di carta con sopra una riproduzione di una vecchia pubblicità credo ok basta possono essere di varie dimensioni piccoline grandi non so però tendenzialmente sono pezzi di carta con magari delle pubblicità delle vecchie fatture delle vecchie cartoline ok questo questi sono gli efimera le journaling card sono delle sempre dei pezzi di carta sopra la quale tu puoi andare a scrivere quindi qua cioè che le chiamate tag piuttosto che journaling card voglio dire sono dei pezzi di carta dove tu puoi andare a scrivere sopra ad esempio ad esempio questa questo è un'efimera va bene perché ad esempio è una riproduzione di una ricevuta bancaria una roba del genere è una card perché comunque sopra posso andare a scrivere qualcosa qua dietro ok e comunque ti abbellisce un po' il journal va bene questo invece è un po' più una tag perché comunque vedete ho fatto il buchino ho messo il come si chiama un fiocchetto quello che è però tendenzialmente la tag se vogliamo proprio essere precisi è quella con questa forma qui proprio da etichetta però voglio dire che le chiamate così o cosa sono pezzi di carta va bene qui è proprio se vogliamo star lì a guardare il pelo nell'uovo va bene poi altre cose vediamo se le ho qui comode da farvi vedere però diciamo che queste sono le cose principali insomma e basta vi posso garantire che a forza di vedere video soprattutto video ad un certo punto vi viene naturale capire di che cosa si sta parlando perché bene o male a forza di vedere l'immagine con la persona che parla sta parlando di quella cosa lì la indica bene o male prima o poi diciamo che si impara anche non volendo e anzi vi dirò che io a forza di fare video di qua e di là e di vedere tutorial americani bla 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 corsi in americano bla 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 purtroppo per fortuna a volte purtroppo mi viene da utilizzare il termine inglese e non mi viene neanche la traduzione e a volte purtroppo anche le parole italiane non mi vengono ma voi lo sapete già quindi mi spiace si fa quel che si può quindi ripeto se avete qualche altra cosa da chiedere fatemelo sapere nei commenti se c'è qualche video che vi interessa che io faccia fatemi pure sapere che mi fa piacere ovviamente e basta un grosso bacione e grazie per la visione e alla prossima ciao ciao ciao